E apriamo questa edizione con una esclusiva di Patrimonio Italiano TV. Sì, proviene da una magnetar, una stella di neutroni con un campo magnetico molto intenso, il primo lampo radio veloce, enigmatico segnale radio di brevissima durata intercettato nella Via Lattea, il più potente segnale radio mai osservato nella nostra galassia. La scoperta è pubblicata in tre articoli sulla rivista Nature e una delle ricerche coordinata dall'italiano Daniele Michilli dell'Università Canadese McGill. E Daniele è in collegamento con noi da Montreal. Ciao Daniele, benvenuto su Patrimonio Italiano TV. Allora, entriamo subito nel vivo della notizia e raccontaci di cosa si tratta questa scoperta. Il quadro un po' più generale è che ci sono questi fast radio bars, che sono lampi radio veloci in italiano, sono queste emissioni radio estremamente potenti e che arrivano solitamente da galassie lontane. Stiamo parlando di milioni di anni luce, quindi distanze inimmaginabili, ma noi li vediamo abbastanza brillanti. Per vederli brillanti sulla Terra significa che quando sono stati emessi erano estremamente potenti. Un po' come è difficile vedere una candela da 10 km di distanza, ma vedi un faro da 10 km di distanza. E quindi per gli astronomi sono sempre stati molto interessanti, prima di tutto per capire cosa può aver originato queste emissioni così potenti. E seconda cosa perché venendo da così lontani li possiamo usare per studiare galassie lontane e cosa c'è tra le galassie, un po' come dei fari che illuminano altre galassie. E il fatto è che appunto per la distanza non siamo mai riusciti a vedere che oggetti potessero emettere questi fast radio bars. Il 28 aprile, per la prima volta, abbiamo visto uno di questi fast radio bars che veniva dalla nostra galassia. È stato, visto che appunto questo era più vicino, è stato il più potente segnale, il più potente diciamo lampo radio mai visto nella nostra galassia. E abbiamo subito, Chime, questo telescopio in Canada, ha per primo visto questo segnale, ha subito allertato tutto il mondo astronomico e molti satelliti hanno, e a radiotelescopi, chiaramente hanno iniziato a guardare questa, la posizione di questo fast radio bars. E per concludere, la cosa importante di questo studio è, la prima cosa è che venendo dalla nostra galassia siamo riusciti a vedere cosa generasse questi fast radio bars. e si tratta di una magnetar, che è una stella molto particolare. È una stella di neutroni con campi magnetici altissimi e una stella di neutroni quindi viene, diciamo, dalle esplosioni di una stella gigante e nella nostra galassia se ne conoscono una trentina, quindi sono stelle particolari. E appunto, la seconda cosa è che ci ha fatto vedere che almeno una parte di questi fast radio bars sono emessi da magnetar. E ora non sappiamo se tutti sono emessi da magnetar, quindi la ricerca continua, ma stiamo analizzando sempre più dati e ecco per cercare di risolvere il mistero. Daniele, ho letto che una delle ipotesi è che questi messaggi possano provenire da una civiltà aliena. Possiamo escluderlo a priori? No, non a priori. Purtroppo le osservazioni lo escludono. Io da astronomo vorrei essere il primo a, cioè più di chiunque altro, a poter trovare una civiltà aliena che sia in grado di mandare messaggi. Ma questi non hanno assolutamente le caratteristiche di quello che ci aspettiamo da una civiltà. E tra le altre cose questo studio ci conferma che è un fenomeno naturale, perché nessuna civiltà potrebbe vivere nelle vicinanze di una magnetar, di una stella con questi campi magnetici. Diciamo che è un ambiente assolutamente non adatto alla vita. Ci sono campi di raggi X, quindi purtroppo devo dire che è totalmente impossibile. Mi sarebbe piaciuto darti un'altra risposta, sinceramente. Tu sei italiano, esattamente di dove? Io sono nato a Roma, ma sono cresciuto in un paesino dell'Umbria, che si chiama Nocera Umbra, nella campagna del centro Italia. E ho studiato lì fino al liceo. Poi dopo il liceo sono tornato a Roma per continuare con l'università. Finita l'università a Roma, dopo la laurea, mi sono trasferito ad Amsterdam, dove ho fatto un dottorato di ricerca. E dopo il dottorato di ricerca sono stato assunto come postdoc dalla McGill. Ho vinto una borsa di ricerca per venire in Canada. Grazie mille Daniele, un salutone. Un saluto a tutti gli spettatori di Patrimonio TV. Un saluto a tutti gli italiani in patria e all'estero.